E' sblocato la stasi? No, ma l'abbiamo assaporata L'abbiamo già annusata Qua dici che possiamo assaltare tutto Ah, skippiamo? Era un XP Facciamo, facciamo allora Sono sempre XP anche i mob un pochettino Ma aspetta che non lo vedo rosso Ah già è vero che dobbiamo arrivare al 5 Eh, meglio non skippare ragazzi, li leviamo subito dalle balle questi Ho fatto la racchia sto faccio No, no Un'archia heads Strano Ah, per le esotiche anche vero mi servono Per quelle del chiosco, vabbè ma chi ce le ha tutte per esempio Matt Vabbè sì Che teoricamente per quelle del chiosco Per si fare i raid apposta Per prendere quei materiali Oh, la tocca piano Eramis All'altezza del mio tempo Cosa intende o filax con dipendente dalla divinità? Il viaggiatore Ah no è filax, ok Mi ricorda un piccolo assalcio Tutti la stessa voce Così era Cos'è quello? Viver Che nuovi nemici vex Eh già Eccola Sembra Sembra la Diciamo che è un imposo tra un cauro e un pesce rosso Eccolo Cristo? Mica mi è arrivata attasso a mia Eppure a me Cos'era? Ma meltato quel coso Cos'è? Sì Cosa puttana Tutti nello stesso punto Viver Cosa? Raga mi scioglie Cosa mi riposte Fate occhio Hai meno uno due cene mi fa l'anarchia Mettete l'anarchia uno dei tempi C'ho già fatto di essi C'ho già messo C'ho messo Però questo è un'anarchia Ma no Vi faccio i cichini in fondo Mi hanno già Spesso Quindi dove cazzo Non la rifaccio i piccolini Tu che l'anarchia Fa malissimo quel coso Comunce Ah possiamo prenderla solo in Nel centro ragazzi No la faccio No la perché non mi interessa quella al centro Non ha danno critico Non l'ho schivata Ma di nocci Carica carica Jesus Quella che ci mette poco a caricare Cosa è il problema Che cerca di farvi un po' di frizione Ha malissimo quel coso Madonna mia È un arpia con gli steroidi Sì raga Ha malissimo Porca Ma che questa farà da solo Rambuggato per un atto Lascia che ti insegni Prova filap Filax Filaps Non so perché veniva filaps Chiavare i piedi del clan Come stanno 4750 Stanno riscattando le taglie Magari È un pollo gigante Sì ma fa malissimo Ma mandra Quello fa Un male cane Oh 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 No Vandalo Bello croccante Vai giù Ok Ok pompa slug Nuo meta C'ho 20.000 con un colpo Ok se lo piglio in testa Faccio 20.000 Attenzione che ci sono Ah Eh sì Faccio Scoppioli Oh c'ho Madonna Adonno Adonno Si inizi la campagna così Le missioni in solo Non sono neanche semplicissime In realtà C'è il servitore Tutto croccantino Lì dietro Ok Non c'è da No Ok Non avevo mai visto Le forze militari Dei caduti così Organizzate Non hai visto? Per molti anni Gli elixni Hanno vissuto Sparpagliati Sì Ehi Vedo dei Uh quanti si è Perché dai bacini Vari I nostri casati Decadenti E ne ha fatto Un'armata Oh di nuovo Oddio ce ne sono due Oh madonna Io c'ho Un colpo di anarchia Ce ne sono due Cristo Oh Oh Sta caricando No Non lo faccio da qua sopra Non sta pieno Vabbè Andata 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 Ehm è vero È vero È vero Miro musallami Fatto per giocare in compagnia Giusto che sei così Ma le pompa slagged Dicono a me Comunque Hanno il suo Perché Vediamo Vieni a me Progenie meccanica Uh Bipo De Mimicallia De l'incazzato Ora che c'ho Così Grandini L'ennesima Casata Ma quindi Ci saranno anche Dei mini Galdra Sì Probabilmente Se Si continua così Sì Ci hanno anche Dei Quelli di giardino Un po' la voce rau Eh raga C'è un po' d'as Un po' come Come si chiama Il fanatico Apri Apri La vagina vai ok pg filax ma quasi un assalto raga tra un po bello ma probabilmente lo proporanno come assalto a casta zona è bellissima però porterò il suo cadavere ai ragazzi forgerò un anello dalla tua corazza non è facile oh mio dio ma ricordatevi se avete armi solari ragazzi si distruggere no ma credo che basti qualsiasi armi ah sei già morto ah no ma cos'è la missione ah è lì sopra è over shieldata e non riesco a salire perché ok bella gio alex grazie per il vero 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 si fanno malissimo ragazzi faccio 16.000 eh ma ho fatto 16.000 sarà tipo una caccia all'incubo sarebbe figa dietro c'è la panzetta grazie arriva oh 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 non so se posso aiutarti a distruggerti il coso però ericamente si sparando al viaggio non ho capito se la posso distruggere così no non si può distruggere stasera ah no poi sono all'ora oh 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 via freccia arrivo si si arrivo scudato prendilo stavo salendo ok c'è la cosa qui se non muoio prima ce l'aiuto oh 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 no è cittina tua sorella oh per essere una per essere una boss fight della storia raga è tanta roba però non mi dispiace affatto ragazzi l'ho sciotto sto coso poi gli slug e mostro è una roba è una roba che che oh 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 cosa come non sono slug si si e se sono un palli più puttana figliati figliati che casinca io non sto capendo niente io sto tirando io sto tirando a pugni tutti oh chef tony grande scheggia d'oscurità l'abbiamo ancora assaporata raga però sembra figa è stata no è stata fighissima sai che c'è è figa adesso si poi tra un po' ah beh quello si fa anche se il generale non distrugge l'esercito secondo me ci viene fuori qualche build bella mettiamo quella scheggia alla base raga prima boss fight io si si esatto il lavoro lo faranno l'otto praticamente è ramis incontro praxis in prigione si no ogni giorno parlavano attraverso le pareti delle cellule sognando un punto nuovo la scheggia permise a me di trarre potere io sto provando un 120 ragazzi ha un flinch devastante è useless è useless sta roba è useless sta roba mettiamo sembra abbastanza useless oh oh no no mi sta dietro dietro arrivo no ma l'ha messo punto facciamo una prova avviare il protocollo difensivo eh pronti a morire fra tre oh mio dio raga come faccio a riscattare gli ingrammi esotici della scorsa stagione d'ossi no ragazzi 120 ragazzi con me fanno abbastanza schifo lo dico così apertamente sembra il rinculo di console però spara molto più veloce è molto più difficile mirare al tempo stesso è stato è arrivato con lo tutto il fondo oddio e comunque già io vedo quella freccia rotta eh sì vabbè 1120 sono quante di quanti livelli luce 20 almeno sì c'è un rinculo di cristo per questa ora i dati devono essere puliti no ma appena adesso si avanza è no a livello 5 qua vedi come stagiamo cazzo ridi oh 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 Non c'è nessuno Ok sembri di fare un gran maestro ragazzi Ti sfiorano sei morto Ah ho perso anche una taglia dell'assalto Ma l'ha dato qua Eh sì perché me l'ha dato appena completato Eh sì è strano Sono exo questi Sì questa è quella Fabbrica degli exo No no sì era per vedere la zona figa No la zona è molto bella Magari questa è pure l'entrata del raid No ragazzi Il rinculo è stranissimo dei 120 Cioè da quasi fastidio alla vista Da fastidiosissimo proprio Dai che per un po' là in fondo c'è un elmo Dai che c'è un elmo dai Sono a 1101 io adesso E invece Orca troia Oh madonna Ucciso così Quanto avete? Oh ucciso No 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 Non era come Non è ancora zona di rientro Sì vabbè Cioè la bella è che mi shotta a me Che sono tre chilometri più in là Cioè E i 120 sparano a cazzo di cane Cioè gli hanno resi un po' useless Eh mudellami Cioè sono abbastanza inutili in questo momento Cioè guarda io non sto mirando Guarda Il rinculo va a cazzo raga E' strano vedere questo posto I elixir sono tormentati da ciò che abbiamo perso Ma non siamo tenuti a esplorare le rovine della nostra vecchia vita Come voi Quante mine ci sono? Fighissima sta zona comunque Poi non mi dò ne Guarda è molto facile Lo dò molto fighe Mi sono nato solo Cinepiche Cosa vuole? Oh che male Vabbè i pompanslag sono il futuro ragazzi Guarda che roba Sì no fanno male Cioè i buchi Mnuscola pasta diventano questi Bellissimo anche sta zona What the fuck Questa è quella che si è vista nel 3 Quando hanno fatto vedere Sì Il primo che c'era stata Nerf tra 1,2,3 Agli slag singolo intendi? Eh mi sa Se trovi uno slag singolo che Ah ok What? Madonna è sta roba? Non è un figo Avranno i server che fanno cagare Però su design non ci piace No vabbè design ragazzi Però server Che bomba Ok Eh Aia Io ho poco a periodo Tanto tanto dolore Gli altri non si sono spinti Eh è vero quella cosa lì Però è strana Mh Sei un'eccezione Una relazione Sono i server Bungie sotto ghiaccio Eh Allora Sparate sopra raga Sopra Ok Scongelato Dobbiamo mettere le macro Per scongelarsi Sì Quei cosi Non so cosa sia In realtà A65 Ora si Ok Vediamo sta missione Eeeh Ah no ma non ce l'abbiamo Ah si ce l'abbiamo Volete farla dentro qua Le riscattiamo adesso dici Sì Quindi puliamo custodia Ristare Adesso Ok perché dopo dai X di più Non so Aumentiamo Sì dovremmo aumentare Ok riscattiamo Aspetta Guarda solo se c'ho saggezza condivisa Ma sì Saggezza condivisa sì Allora riscattiamo Quanto ho fatto io poi Se c'è un posticino Almeno mi svuoto un po' anch'io Sono pieno Non c'ho Cosa Da quanti livelli Stiamo salendo Ma si giusto un paio Dite di che Sono arrivato a 10 Ma donna raga Oh Mamma mia Vabbè adesso con 10 in più C'è un'altra roba Sono quasi al 12 No bellissima la mossa finale Ho bonus potere Più 5 Già Ah questo è al 1060 K Ok Mi levo dalle balle Sono al 1103 di luce Per il momento Però abbiamo appena riscattato Le taglie E siamo Sono all'11 del pass Ehm I guanti Poi puoi silenzio Oh bello Ma io aspetta A prendere quelli del pass Che a me non mi aiutano A poi a salire Sì sì no no Li prendo alla fine Io avevo preso solo Una mossa finale Carabella Ma io l'ho preso Sì che altro adesso Abbiamo già un più 5 Che 89 94 Che vero Credo di aver buttato Un blu Che misericordia Ehm Sì Ecco il pompa del drago Potrebbe essere top Quell'arma lì Effettivamente Metto caricatore No caricatore Per lancia granate Non lo so Canone portatile Inarrestabile Vabbè metto caricatore Per lancia granate Antisussulto Canali portatili Caricatore Munizioni De fucile A pompa E Ma qual è Dopo che non lo posso Uttare da qua Impulsi dai No quasi quasi Mi alzo un po' Facendo così Guarda Metto questo Metto questa blu Sono a 1099 Ok ci sono Arrivo Oh 1093 Se trovassi l'elmo Eh anche a me Non mi sta dando l'elma Porca Paletta Con l'elmo Sarei ottimo Ti sentono Il Sì Poi ho Questa statica Con questo pg Siamo al 10 Con gli altri Arriviamo Anche i 120 Fanno abbastanza male Devo dire Favano 2000 colpo Più o meno Allora Dov'è il raid Si vede No Non ancora ragazzi Ah no Davanti a noi ragazzi C'è lo squadino Adesso lo apro Adesso lo apro Matto Datemi tempo Fatemi finire Almeno la mission Oh ma Sti mantelli Dei cacciatori Ancora pagati Porca miseria Quella non risolverà Nella bellissima Raga sta zona What the fuck Che bella sta zona Bellissima Bellissima Salto Sì Oh Cecchino Pazzorello Lì dietro E one Grazie Aspetta c'è Guarda Ecco io non ho Eh uso Sfrutto l'ombra estesa Però E io appena Prendo Non so Una secondaria Decente Raga Eh ma l'altro Un impulsi blu Non male Quindi uso Non so Che dire Cioè Ambientazioni Bellissima Cioè Non so Veramente cosa dire Tutto così Sì La vista che c'hai Frecciando osso Via di sta punto No Eh no Però Eh niente Eh niente Oh Ah si viena sparare Di nuovo sopra Raga Sì Oh merda Jesus Eh invece no E invece sì Eh sta nuova meccanica qua Così è scomoda Magina nei cala gran maestro Sta roba qui Ok 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 Berk nuovo si Eh l'ho appena trovato sul Sul pompa Ah di nuovo Ho cinque colpi di primaria Non so Ora adesso Ah è lì sopra raga Lo vedo io Ok Ah ce ne sono due Ce ne sono due Ce ne sono due Ce ne sono due E muoio Cercato delle munizioni Ok l'ho trovato Madonna si è rimasto Madonna si è rimasto rosso No Ho finito il scherciaggio Tutti Tutti armi da distanza ravvicinata Ok Adesso dovrebbe esserci Nel trenza Oh madonna quanti Finistra destra Uno fuori Uno fuori Uno laser Uno 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 Cos'è quella roba lì Ah stasi Ok No c'è altra stasi E allora Scusi Pam Ma fa danno anche la nade Se le giochi qua Fai un botto di danno Versa Parix Praxis è abbattuto Qui abbiamo finito Uh Ne ingramma E anche questo Ce la sa manca Senza Vilax E Praxis Eramis Sarà più Imprudente Allora 1103 Uh Ma ha dato l'elmo Attenzione Ma eh Avrà dei problemi Io vado avanti Voglio vedere Sì Un server Cos'è È l'occasione Perfetta Per colpire Guardiano Dovremmo tornare Alla base Con questa scheggia Rignota Ci sta Questa Qua 40 fps In sta zona Ma Madonna Eh forse perché sono I stream Non lo so Ah ok Sì Ah E quando li troverò Moriranno tutti Basta Basta Eramis Non doveva essere L'impero Doveva essere La casa Casa La nostra Ci è stata Sottrattata Della grande macchina Finché Essa vive Per noi Non c'è alcuna Casa Mi piace Guarda che bello è il mirino Ehm Mi ha ributtato di sotto Ok Saresti anche tu Incazzato Come Come Eramis Dici Eramis Eramis Varix Aveva confidato Nella nostra Antica Amicizia Ma dopo ciò che ha fatto Ho capito Di essermi sbagliato Sai perché ci chiamano Caduti Eh l'impulso Non fu il nostro stramontimento A conferirci quel nome Infatti so C'è che è il capetto Questo è il quale Non è possibile Per un attimo Oh Attenzione dietro Eccoli Quello Molto incazzato E' fatta L'ho fatta Il tempo che ti ho detto Attento E quello era già partito In volo Oh Ksuni Grazie per l'host Come stai? Faccio lo shout out Ho fatto un secondo solo Grazie mille Tutto bene? Nella dice che sei bella Addirittura Sembro Sembro un barbone Non so No Sono bello Regà Come state? Bella Sky? Eh bella Sky Ogintanto Sky compare Così Osserva Come state? Bellari comunque Tutto bene? Questo non Lo elimino Come è andata? Eravate su Oltre la Beyond Light E' stato impegnativo Però A me A me non sta dispiacendo Eh Ksuni Deve essere sincero E non Non mi sta dispiacendo Più di tanto Le missioni Sono carine So come l'avete Non so che punto siete voi Poi a parte Poi a parte vabbè la cosa dei server Ragazzi Lasciamo perdere Però Ah si 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 No beh si Quello dei server Assolutamente Quoto Quoto Ma al 100% Proprio Ah questo è bloccato Però per il resto Guarda A me non Non mi sta dispiacendo In generale E ovviamente Potevano gestirla meglio La cosa dei server Però Ragazzi Bella Janusz Grazie per il follow Caro Benvenuto Noi invece siamo Quasi alla fine Minotauro I livelli Sono un po' più alti Quindi Sembra di fare Un calagra maestro Non vanno giù Va bene Exudi Buonanotte Sentiamo Presto Dai Intanto Io mi faccio Ancora qualcosa Gigante Faccio le maratone Ormai qui Buonanotte Grazie ancora E di quanta luce sei Adesso ti dico Deve essere al 1130 Più o meno Più di lì 1128 Si Si no Assolutamente Mutellami Assolutamente Come avete fatto ad arrivare così alti Eh Eh Si traiarda Quando la tua città Cronierà E la tua gente Morirà Quando il tuo viaggiatore Ti abbandonerà Queste sono anche le taglie Belchi Comunque Oh Gesù Cos'è Oddio Un po' di coda Sembra Collocamento Ma è quello nuovo Si Aspetta che ce ne c'è Qui sopra Vado a fallire Faccio invisibile E io li ho fatti E tra questi due Questa No Non sono più abituato Senza il tracciamento Ma Ah mica Pensavo di essere buggato Ragazzi E' inginocchiata Stava pregando Eh Guarda Sono l'ultima persona Che può dirti Come risparmiare i soldi Belchi In questo momento Fa il genovese Non andare a cena fuori Ah Dobbiamo andare avanti qua Ok Si Sugli elixni Varix Arrivò su Europa Per rimediare Per fare la cosa giusta E forza Andiamo dentro Ah C'è teletrasportato proprio Ma fammi il piacere Varix Sei qui solo per nasconderti Come un bigliacco No Liberare i vex Mette gli elixni in pericolo Molti sono già morti Eramis La bigliacca Sei tu Cosa vuol dire Oh Ah ecco cosa voleva dire Oh Oh porco Prigione degli anziani Vi da il benvenuto Esatto Si ma li hanno messi ovunque Metteranno che da play Si può già fare Ma Non è una roba Per alcuni Eccitare così Bello Cioè Bello Ok Meno male che non c'è rientro Cioè c'è rientro subito 1150 ragazzi a livello E mi sono sconnellato Il cosino qua Si riesco a sparargli E stare nascosto qua Arrivo Eccitare così È andato un casco Sì a 1131 Mettendo legit Non lo so Non credo Spero di no Ah è esploso così proprio Qua è Ramis Bella sta zona Bellissima La roba della vostra Bellissima Sta 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 Zona finale È bellissima Un bel dito lì No Che dove troppa L'entrata Ragazzi senza ripari Perché ho l'aperto Che no Qualche riparo c'è Però è piccolino Cioè quasi Sì Non comprendete Questo potere Ops Arrivano Sopra Ha fatto una bolla Che non ho fatto Sì è giuro Come mi sta Lo metteranno Il campo visivo È di giusto Qui sta Tirando Sì Vabbè Mi zoncio La 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 Fortunità Sì 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 aiuto troppa munizioni e anche io speciali ne ho però pesanti zero no pesanti anch'io anche perché non ho messo niente di moto no crashato tutto no che spavento tutto quel potere sprecato al servizio di falsi dei what permettimi di aiutarti a romperle spettro così io non posso mi spiace no guarda cosa ho fatto per te niente più luce niente oscurità guardati dentro concentra il tuo potere interessante la sola cosa che devo rompere qui sei tu vieni marionetta perché non mi mostri che cosa ti ha dato la libertà vai mo qua stasi a non finire si finisce in stampelle si ma che stiamo caricando sono belli crispi sincronia proprio si fanno sincronia stai sfidando questo non l'avranno fatta vedere anche si 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 Sì Nonostante tutto continua a dare problemi, ancora non gli è bastato, ancora, ancora con 17. No veramente stasera hanno superato 6 stili, era fallo un po' che cazzo mi ce n'è, tipo un Capicabro, un true, indosserano i snippide, era quasi morto il boss, no? Che sfiga amiche! Che era verde ma? No, liberati! No! Mi ha portato Giulia! Madre d'esta! Mi ha portato Giulia! Madre d'esta! No, mi ha portato Giulia! No, mi ha portato Giulia! Dalla super! Chiomo sarebbe abbastanza per tutti i wild, è sereno lì! Tancho, chi sei brava! Dalla super Può finire in questo modo È impossibile Cosa? E niente Bellissima sta scena The fuck The fuck